Bene, eccoci di nuovo in studio, allora come ho detto prima della pubblicità, vediamoci queste interviste che ho realizzato al termine dell'incontro tra Santa Marinella e Canepina, abbiamo sentito un contentissimo allenatore del Santa Marinella Livio Valle e poi con noi anche altri due giocatori. Prego la regia di mandare in onda le interviste. Abbiamo sbagliato il primo tempo, quattro pargole vistosissime, due addirittura davanti porta e poi nella prima occasione su un'ingenuità nostra, grossa, perché con difesa schierata non si può prendere gol sul fallo laterale, abbiamo fatto in buca il numero 11 loro e c'era trafitto, insomma, poi con il morale che ci avevamo era difficile ritornare un attimo a galla, perché poi vai sotto casa, a casa vai sotto ten gol, con la squadra che punta moltissimo a vinci, che puntava moltissimo a vincere oggi, da sotto, insomma, si è dovuto fare un lavoro a fine del primo tempo, persona su persona, a fargli capire, insomma, che si poteva ribaltare il risultato e poi hanno capito ed è venuto. Beh, che poteva ribaltare il risultato, si è visto anche nel primo tempo, perché c'è avuto almeno 4-5 occasioni da gol, soprattutto prima della segnatura loro, hanno avuto tre buonissime occasioni, poi chiaramente ci sono state occasioni anche dopo, anche perché loro giocavano una difesa molto alta e per voi era facile, insomma, anche partendo dall'esterno, entrare dentro e non dare in gol, però ancora una volta questa squadra ha messo in evidenza questa scarsa attitudine al gol? Abbiamo fatto delle modifiche proprio su quello, al primo tempo abbiamo messo la difesa a tre, con Iuri Del Monte un pochino più alto a sinistra e Carzetti alto a destra, giocando a tre al centrocampo con Palombini e Donati un pochino più larghi e davanti alla difesa Paradiso per far partire prima la palla e poi giocare sugli esterni. E questo gioco ci ha dato un pochino più ragioni in virtù del fatto che poi noi sugli esterni siamo riusciti a entrare sia con Del Monte che con Carzetti dall'altra parte, anche se Carzetti poi è dovuto cambiarlo perché non stava alla massima condizione. Ma abbiamo arrivato anche dopo perché con Ferro poi spostato abbiamo giocato 4-5-1, abbiamo fatto questo è Fabio che è matto come un cavallo da corsa, e abbiamo fatto un 3-5-2 che ci ha portato un pochino più di lavoro sulle fasce, era lì che dovevamo lavorare, dovevamo entrare e i gol soffrono tutti e due da due inserimenti degli esterni. Sì, ma dopo quel primo tempo, insomma diciamo un po' negativo, dal punto di vista dicevo proprio delle conclusioni, che cosa è successo nello spogliatoio per rivedere poi Zantanella nel secondo tempo molto ma molto più aggressiva rispetto ai primi 45 minuti e molto più convinta di se stessa? Questo rimane dentro gli spogliatoi, quello che ci siamo detti dentro deve rimanere dentro gli spogliatoi, ho chiesto il riassunto, ho chiesto solamente un pochino più di attaccamento alla maglia, Zantanella lo merita insomma, io penso che Zantanella debba aspirare a qualcosa di più e loro secondo me hanno capito il discorso e il secondo tempo si sono svegliati un pochettino. Non c'entra niente con la partita ma sapevo che alla vigilia hai detto, hai dichiarato un po' anche la stampa, che questo incontro ti mettevi in discussione, perché? Perché è giusto ed è rispettoso nei confronti di un presidente ed un direttore generale secondo me, perché secondo me nella vita hai rispetto alla cosa che, al di là del calcio, rispetto alla cosa più importante e quando tu ti metti in discussione significa che dai un segno evidente di quanto attaccamento hai per la società. Questo è il secondo anno che sto nel Zantanella ma penso è come se fosse il quinto o il sesto che sto nel Zantanella. Io mi sono sempre chiesto e mi sono sempre presupposto che quando alleno una squadra io devo indossare i colori della maglia che indosso, adesso sto indossando il Zantanella e per cui se il presidente avrebbe ritenuto opportuno magari da ancora un'ultima scossa io mi sarei tranquillamente messo da parte e sarei ancora venuto a vedere l'allenamento e la partita, perché è questo che deve fare un allenatore, è questo che deve fare un appartenente alla società. Il senso di appartenenza deve essere la cosa più grossa che deve avere, sia un giocatore che un allenatore che un dirigente. Se non c'è nessun appartenenza si fa poca strada nel calcio. Ecco, con questa vittoria, salita in classifica, non è una svolta clamorosa, però sicuramente riprendereste la Foglianese e andreste terzo ultimo, che questo naturalmente vi consentirebbe già, come possiamo dire, anche parlando come abbiamo fatto in Camera Caritatis, l'opportunità di poter entrare nei play-out, che credo sia l'obiettivo del Zantanella Marinella, se non quello proprio di salvarsi, di ci riesce ovviamente alla fine del campionato. Io adesso do però una parola che un grande allenatore ad opera sempre, e che io consiglio sempre in grande, è che è Ugo Frunti, che una rondine non fa mai primavera, ci vanno qualche milione di rondine a primavera. Abbiamo fatto una vittoria, abbiamo fatto un passo avanti, ma se non diamo continuità, il passo avanti possono diventare quattro indietro, per cui è importante che adesso si dia continuità, nel risultato e nel gioco. Andiamo avanti, andiamo avanti passo per passo, tu dici play-out, va bene, ci prendiamo i play-out, non è un problema. Poi andando avanti vedremo un attimo, io sono abituato a tirare il totale e lo faccio sempre alla fine, non lo faccio mai prima. Eccoci il capitano del Santa Marinella, Claudio De Santis, finalmente la prima vittoria. Sì, oggi credo che sia stata una vittoria meritatissima, siamo partiti un po' con il piede sbagliato, però ci siamo ripresi subito. Abbiamo fatto un secondo tempo strepitoso, abbiamo avuto molte occasioni e alla fine è andata bene. Indubbiamente, hai visto qualche miglioramento a tutto l'aspetto tecnico della squadra? Cioè, questo grosso carattere nel secondo tempo forse è quello che è mancato poi nella prima parte della gara? Sì, sì, però secondo me rispetto a tutte le altre partite oggi c'è stata la vittoria, perché se vediamo le ultime quattro partite abbiamo sempre giocato bene. È mancata solo la vittoria che è arrivata oggi. Indubbiamente, tre gol in un'unica partita, ne avete fatti tre soltanto nelle precedenti nove. Beh, che significhi qualche cosa questo? Io spero che continuiamo così. Oggi ci siamo finalmente sbloccati, spero che da qui a fine campionato riusciremo a trovare questo ritmo di partita. Quale potrebbe essere in questo momento l'obiettivo di questa squadra? Io penso che la salvezza ci sta tutta, anche perché, come ripeto, quando giochiamo giochiamo e ci manca solo il risultato che fortunatamente è arrivato oggi. Certo, e manca pure però un po' di concretezza in zona offensiva, quella che questa squadra fino a questo momento non ha avuto. Io penso che purtroppo la classifica è quella, i problemi ci sono, ma tutti i reparti, non è un problema d'attacco, tutti i reparti vanno migliorati e speriamo nel proseguo del campionato. Allora, eccoci con Simone Ferro, autore del primo gol, quello che ha dato il via naturalmente alla riscosse del Santa Marinella. Terzo gol in campionato, finalmente si comincia a muovere qualche cosa, soprattutto per quanto riguarda la classifica. Sì, speriamo. Speriamo che c'è questa vittoria, c'è la motivazione, andrà avanti. Come hai visto la squadra oggi? Il primo tempo male, il secondo con molta grinta e si è visto il risultato. Senti, ma che vi ha detto Valle negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo? Ha caricato, ha caricato tanto. Eh, si è visto. Non hai detto che però, perché anche Valle, io ho chiesto anche a lui, lui mi ha detto che c'è cose che non si dicono queste, però io speravo che tu comunque mi svelassi qualche cosa. Senti. Non è stato nello spogliatoio, rimane nello spogliatoio. Però, insomma, si è visto qualche cosa di più nel secondo tempo, ma soprattutto si è visto una squadra completamente diversa rispetto ai primi 45 minuti. Sì, si è vista. I primi minuti eravamo nervosi, nel secondo tempo abbiamo messo la grinta e si è visto. Ciao mister. C'è anche di voi ottenuto che anche nel primo tempo, insomma, c'è sbagliato almeno 4-5 occasioni e loro nell'unico tiro a un porta hanno segnato. Quella sfortuna che ci dice stanno. Ma credo che sia, in pratica è proprio il leitmotiv della squadra di quest'anno. Cioè, noi abbiamo una difesa che ha subito qualcosa con 15 gol, quindi a questo momento, e ne ha realizzati solamente 3. Oggi ne ha fatti tutte e tre insieme, quindi è passato a 6. E anche oggi ha mostrato ancora una volta qualche piccola sbavatura in fase difensiva. Io penso che correggere questi piccoli errori potrebbe portarvi voi in una situazione classifica sicuramente migliore. Sì, sicuro. Quella è sicura. Ecco Antonio Murgante, una delle colonne difensive del Santa Marinella. Forse quest'anno, sotto questo aspetto, la squadra non sta dando il meglio, questo reparto non sta dando il meglio di se stesso, mi sbaglio? No, sì, è vero, però è vero anche che l'atteggiamento difensivo è di tutta la squadra, non è solo del reparto difensivo. Stiamo a cercare di correggere gli errori che facciamo, piano piano, sarà sempre meglio. Proveremo sempre a far del meglio, da qui in avanti. Indubbiamente, tu sei il giocatore che ha mantenuto con più costanza il rendimento in campo, hai avuto qualche attimo al momento in cui Bentivoglio lasciava la squadra, sei rimasto fuori, poi però hai ripreso il tuo posto tranquillamente e non l'hai più mollato. Sì, sì, ma io di questo non mi preoccupo. Il calcio è fatto pure di questo, poi sta fuori, puoi giocare come non giocare. Stai impegnando e cerca di fare sempre meglio. Senti, questa vittoria che cosa cambia per voi? Cambia tanto, da morale, cambia pure in classifica, sono tre punti in più. No, non so, risultati dell'arte, se la Foglianese ha perso abbiamo ripreso anche la Foglianese. Se l'Anguillara non ha fatto il risultato stiamo a due punti da loro, se siamo riavvicinati, ci siamo riavvicinati. Considerando appunto che siamo appena all'undicesima, quale potrebbe essere l'obiettivo di questa Santa Marinella? La servizia senza fare i play-out. Bene, eccoci in studio. Lasciamo quindi questa ampia pagina di promozione e passiamo al campionato di prima categoria. Prego la regia di mandare in sovrappressione i risultati, ovviamente, e poi vedremo anche la classifica. Aspettiamo quindi questi risultati della prima categoria dove sono impegnate le formazioni del nostro comprensorio, in particolare la compagnia portuale, il Santa Severa e la Città Vecchia anche. Quindi vediamo qui i risultati, compagnia portuale a Lumiere 2-0, Dragona Guadaluperos 0-1, Magliana Real Città Vecchia 1-1, Passo Scuro Virtus Pomezia 0-1, Roma Club Garbatella Virtus Ladispoli 1-2, Santa Severa a Monte Spaccato 2-1, Tordecenci di M84 Cervetri 0-0, Vis Aurelia Fiumicino 1-4. Diamo quindi un'occhiata anche alla classifica che vede finalmente un Santa Severa al secondo posto, Monte Spaccato 18, Virtus Pomezia e Santa Severa 16, Virtus Ladispoli al terzo posto con 14, compagnia portuale Città Vecchia 13, tutte squadre del nostro bacino di tenza, Passo Scuro 10, Fiumicino, Roma Club, Garbatella, Guadaluperos, Real Civitavecchia e Tordecenci 9, Dragona 6, Vis Aurelia e Magliana 5, DM 84 Cervetri 4, Iudella Lumiere con 3 punti. Restiamo ovviamente su questa classifica e diciamo che la settima giornata è stata protettiva per le squadre locali impegnate nel campionato di prima categoria a girone C. L'unica sconfitta è arrivata nel derby, la stracintadina era quella tra la compagnia portuale e la Lumiere. I Città Vecchiesi si erano giudicati in mezzo con il punteggio di 2-0. Pareggio esterno per Real Città Vecchia che in casa del Magliana fa 1-1. Ottima vittoria per la Virtus Ladispoli che in casa del Roma Club Garbatella vince 2-1, successo anche per il Santa Severa. tra le Muramiche che ha battuto il Monte Spaccato per 2-1. Pareggio esterno a Redi Bianchi infine per la DM 84 contro il Tor De Cenci. Per quanto riguarda la situazione di classifica, il Santa Severa come dicevamo è la prima tra le locali con il suo secondo posto a 16 punti, distante solo due lunghezze. Dalla Vetta segue immediatamente la Virtus Ladispoli 14, staccata di un solo punto la compagnia portuale Città Vecchia che è a quota 13, sesto posto per Real Città Vecchia con 12 punti. E quattordicesima posizione purtroppo invece per la DM 84 contro i 4 punti. La Lumiere è il fanolino di coda del Girone. Bene, lasciamo la prima categoria e passiamo alla seconda. Ancora una volta chiedo alla regia di mettere in sovraimpressione i risultati e le classifiche. Qui c'è stato un derby molto interessante, quello tra Santa Marinalese e San Pio. E come vedete dal risultato se lo è aggiudicato la squadra Città Vecchiese per 2 a 1. Vediamo comunque i risultati. Aranova Bravetta 6 a 0, Borgo Massimina Real Boccea 4 a 0, Cere Prima Valle 1 a 0, Soccer Città Vecchia e Manziana 2 a 2, Fonte Meravigliosa Casalotti 1 a 2, Le Fornaci Sporting Città Vecchia 2 a 1, Santa Marinalese San Pio Decibo 1 a 2, Bis Bracciano e Palidoro 2 a 1. Diamo quindi un'occhiata alla classifica che vede in testa l'Ara Nova con 17 punti, Manziana Bravetta e Cere con 14, Massimina con 13, San Pio Decibo 11, Atletico Casalotti, Le Fornaci 10, Bis Bracciano 8, Palidoro, Fonte Meravigliosa e Santa Marinalese 7, Prima Valle Sporting Città Vecchia e CSL Soccer Città Vecchia 6, chiude il Real Boccea con 4. Per quello che riguarda naturalmente questa categoria, vittoria per 2 a 1 del San Pio Decibo nel derby con la Santa Marinalese, la squadra di Mister Rogai si conferma così la squadra più accreditata a fare un ottimo campionato tra i locali. Per quanto riguarda il CLS Soccer, niente da fare, la vittoria qui non riesce ad arrivare, sembra essere una stagione maledetta per la squadra di Mister Porchianello, in campata anche domenica scorsa in una giornata sfortunatissima. Dopo essere passata in vantaggio, la CSL si è vista rimontare e sorpassare in Piero nel guberlo. L'ultima azione però arriva da il gol di Luazzo che ha realizzato il 2 a 2. per quanto riguarda lo Sporting Civitavecchia, male anche questa formazione che ha perso 2 a 1 contro le Fornaci e che proprio come la CSL si trova a 6 punti. Per quello che riguarda invece, e ritorniamo chiaramente in studio, il derby tra la Santa Marinalese e il San Pio Decimo, vinto dal San Pio Decimo, abbiamo realizzato le interviste con l'allenatore della Santa Marinalese e con quello della San Pio Decimo e abbiamo parlato più che del derby, abbiamo parlato molto di quello che è il campionato di seconda categoria e quello che sono gli obiettivi di queste due squadre. Prego la regia di mandare in onda le due interviste. Parliamo di seconda categoria e ne parliamo con Antonio Concetti che è l'allenatore della Santa Marinalese. Lo scorso anno un campionato negativo, faceva la prima naturalmente, è ritornata in seconda. Quest'anno non era partito tanto con il piede giusto, adesso sta recuperando un pochettino. Una squadra che tu dicevi anche in fase precampionato che deve a tutti i costi ritornare in prima categoria, ma rimane questo l'obiettivo? Sì, diciamo che l'obiettivo di questa stagione era quello, è quello tuttora di risalare il salto di nuovo in prima, ma gli ultimi risultati ci hanno un po' di, tra virgolette, un po' ridimensionato, stiamo vivendo la giornata. Dobbiamo comunque cercare di riscattarci il più possibile, già da oggi contro la San Pio in casa e cercare di comunque sia prendere la giusta strada per poter riprendere quel cammino che nelle prime giornate era, diciamo, abbastanza positivo. Che cos'è che vi è mancato in questa fase? Al di là degli infortuni importanti, comunque ci sono state molte assenze, tra virgolette, che hanno pesato e hanno influito nelle comuni della squadra. Ci sono stati dei momenti in cui la squadra non ha avuto quella cattiveria e quella grinta e quella concentrazione giusta per affrontare la partita. L'approccio alla gara è fondamentale e questo è un po' a mancare. So che insomma quest'estate vi siete rinforzati, avete fatto una buona squadra. Molto spesso quando uno si rinforza troppo, non so che succede con tante squadre, parlando anche della CPC, che non riesce naturalmente a decollare quel tanto che serve per arrivare nelle prime posizioni in classifica. Per voi forse la... Sì, però tu hai fatto un esame molto... Hai preso il punto della situazione in quanto ci sono stati molti ragazzi giovani e questo, tra virgolette, è stato un bene, ma allo stesso tempo bisogna trovare il bandolo della matassa e il gruppo va assemblato. Io comunque sia resto dell'idea che questo gruppo può fare molto bene e da qui alla fine del campionato rimango fiducioso. Ecco, nelle squadre che sono nel vostro giro, quali ritieni che possa essere quella più pericolosa o che comunque... o l'outsider naturalmente per quest'anno? Vedendo le prime... diciamo che è trascorso un quinto del campionato, vedendo la classifica, abbiamo incontrato 5-6 squadre, diciamo che le cosiddette favorite che diciamo all'inizio erano tra quelle candidate a vincere il girone, rimangono letali, stanno occupando le prime posizioni, sono l'Ara Nova, lo stesso Manziana con cui abbiamo perso il recupero mercoledì e il Borgo Massimina che lo scorso anno retrocesse insieme a noi. Noi rimaniamo... noi ci saremo, spero di esserci, in quanto, ripeto, il gruppo c'è, ci sono buoni elementi, però bisogna cominciare a capire che è un campionato difficile e che bisogna mettere... bisogna affrontare ogni gara con la massima attenzione e con il cortello delle denti. Bene, questo era Antonio Concetti, allenatore della Santa Marinellese, sentiamo invece il parere di Rogai, tecnico della San Pio Decimo. Eccoci con Domenico Rogai, allenatore del San Pio Decimo, buona la tua posizione in classifica in questa seconda categoria, e qual è l'obiettivo di questa squadra civile da vecchiese di cui tu sei l'espressione massima? Il nostro obiettivo è quello di portare a finire questo campionato nelle posizioni di vertice, perché abbiamo un'ottima squadra e adesso i risultati non arrivano perché varie vicissitudini, qualche infortunio, ma abbiamo un'ottima squadra e lotteremo fino alla fine, sicuramente. Con quale obiettivo avrevate partiti in questo campionato? E' con questo che non abbiamo cambiato il nostro obiettivo. Ripeto, squadra allestita per puntare a vincere il campionato. Comunque il girone è molto equilibrato, abbiamo incontrato la prima in classifica e non abbiamo demeritato, anzi, secondo me ci è stato tolto anche qualcosa, però poi alterniamo prestazioni di gran livello a bruttissimo livello. In dubbiamente, squadra tutta fatta da Civitavecchiesi oppure avete acquistato all'estero? L'unico acquisto di Civitavecchia sono io, di non Civitavecchia, però ormai sono Civitavecchiesi proprio di adozione, quindi però tutti i ragazzi di Civitavecchia. Secondo il tuo punto di vista, quali potrebbero essere le formazioni che possono ambire alla vittoria di questo girone del campionato di seconda categoria? Ancora presto per dirlo, perché, ripeto, ancora ci dobbiamo scontrare tutti, quindi è presto, comunque l'Ara Nova sicuramente, il Bravetta che ho incontrato, un'ottima squadra che pensa al risultato, tutti i giovani pensano, corrono tanto, però è ancora presto, insomma, per dire. Siamo tutti là. Bene, con queste interviste noi chiudiamo anche la trasmissione di oggi, vi ringraziamo di all'ascorto, vi diamo l'appuntamento ovviamente alla prossima settimana, parleremo ampiamente ancora una volta di campionato nazionale di lettanti, eccellenza, promozione, prima e seconda categoria, tanti ospiti, sia in diretta, telefonica, sia quando li sentiamo, ovviamente sui campi, e sarà un'altra giornata interessante per tutte le formazioni del nostro comprensorio. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.